Il castello dei destini incrociati di Italo Calvino è un romanzo breve e fantastico pubblicato nel 1969. Italo Calvino, nato a Santiago de Las Vegas de La Habana, il 15 ottobre del 1923, è deceduto a Siena il 19 settembre del 1985, è stato un famoso scrittore partigiano italiano. Il testo narrativo fa parte della letteratura combinatoria in quanto è accompagnato da riproduzioni di carte dei tarocchi in varie combinazioni, dalle quali lo scrittore fa scatturire diversi racconti. Si tratta dunque di un'opera di letteratura combinatoria. Le storie nascono da un numero finito di elementi le cui combinazioni si moltiplicano a miliardo di miliardi. Questa è una citazione di Calvino. Un viandante, la voce narrante, si trova in una foresta dall'atmosfera magica ed indefinita, all'interno della quale si trova un castello, dove si ferma per riposare. Il luogo viene descritto dall'autore nella sua decadente sfarzosità. All'interno del castello il viaggiatore si accorge di aver perso l'uso della parola e incontra una moltitudine di persone, tra cui prodi cavalieri, nobili signori ed infine viandanti scappestrati. Il viaggiatore si accorge sin da subito che a causa di un probabile incantesimo anche gli ospiti del maniero, ossia castello, non riescono ad esprimersi a parole, ma comunque hanno voglia di raccontare cosa gli ha spinti ad arrivare in quel luogo magico. L'unico modo per comunicare tra loro sono delle carte, i tarocchi, nella fattispecie quelli di Bembo, raffinati i tarocchi del Quattrocento. Così, finito il pasto, un commensale si alza, prende un mazzo di tarocchi e inizia a narrare la sua storia, disponendo una carta dopo l'altra, in modo da formare un racconto della sua vita. Oltre al valore numerico, le carte assumono in questo romanzo un significato simbolico. Le spade indicano i duelli, le coppe le feste, gli ori i soldi e i bastoni le foreste. Ben presto si viene a conoscenza di storie dall'intreccio molto vario e piuttosto drammatiche, vissute dai vari commensali, che di volta in volta assumono le sembianze dei tarocchi stessi. Ad esempio c'è il ladro di sepolcri che giunge in cielo un attimo prima dell'Apocalisse, oppure la gigantessa che seduce il principe appena sposato e viene esiliata. Ancora l'alchimista che vende tutte le anime di una città al diavolo in cambio delle lisir di lunga vita. Questo è un esempio di pagine del testo del Castello dei Destini Incrociati, dove vediamo che alla narrazione tradizionale sono presenti i tarocchi che vengono utilizzati dai vari protagonisti intenti a narrare la loro storia.